L'ossessione per i capelli lunghi e forti di Demetos Demir. La famosa attrice Demetos Demir dà grande importanza ai suoi capelli. La famosa attrice, che ha già un contratto con un marchio di cosmetici, tiene sempre i capelli ben curati. Spiegando che sa quanto i suoi amici intimi si preoccupino dei suoi capelli, l'attrice ha detto. Ogni donna vuole avere i capelli lunghi ad un certo punto della sua vita. Sono una di quelle che vogliono avere quei capelli lunghi e forti in ogni periodo della sua vita. Tutti, specialmente i miei amici e parenti, sanno quanto siano importanti per me i miei capelli. Tra il suo intenso programma di lavoro, Demet si prende principalmente cura dei suoi capelli e risparmia tempo. L'attrice, che risparmia la sua cura personale la domenica quando non c'è un set, si prende cura dei suoi capelli con una musica rilassante. Demet si sente più motivata e più forte quando i suoi capelli sono come vuole. L'attrice ha dichiarato. Sono molto sensibile ai capelli, perché sono indispensabili per me, il mio accessorio preferito sono i miei capelli lunghi e forti.